I formati fotografici e video sono una babele colossale. Ci sono tantissimi aspetti diversi, abbiamo una grandissima varietà di rapporti tra lato lungo e lato corto, orizzontale e verticale. Diventa una giungla in cui è sempre più difficile capire quale formato dobbiamo adottare e in che contesto. Nel corso del video di oggi andremo a vedere quali sono i formati principali e andremo a fare un po' di chiarezza sui loro principali utilizzi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia e di video come lavoro e quindi mi capita molto spesso di avere a che fare con tutti questi formati e mi capita anche di avere dei problemi perché magari mi capita di avere una fotografia realizzata con un dato rapporto, si chiama razio, il rapporto tra il lato lungo e il lato corto, mi capita di avere delle immagini realizzate con una determinata razio che devono essere utilizzate per un tipo di medium che accetta solamente un altro tipo di razio. Quindi abbiamo dei veri e propri problemi di formato. Nel corso di questo video andremo a vedere un pochettino quelli che sono i formati principali, quando si usano, come si usano e come cercare di risolvere alcuni di questi problemi, motivo per cui vi consiglio di guardare questo video fino alla fine. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto perché ci saranno altre informazioni succulente in arrivo nei prossimi giorni e andiamo a cominciare. Partirei, e perdonatemi se lo faccio, con il formato che a me piace di più. Quindi questo è un mio gusto personale. Abbiamo il tre mezzi o due terzi che dir si voglia a seconda che sia orizzontale o verticale. Il tre mezzi è il formato classico della fotografia come la riconosciamo oggi. La fotografia ormai è codificata in questo modo e la maggior parte delle fotocamere utilizzano il sensore 3x2 che è il sensore standard, il full frame che utilizziamo tutti i giorni. Nel caso di una fotocamera PSC come quella che sto utilizzando io, il sensore è diverso, è più piccolo, ma la razio è mantenuta. Quindi stiamo comunque parlando di un tre mezzi o 3x2 a seconda di come lo vogliamo dire. Un'altra razio molto diffusa in fotografia è il 4 terzi o 4x3. Il 4 terzi è stato molto utilizzato nei vecchi televisori e negli schermi dei computer. E questo lo ha reso un formato popolare anche in fotografia. Io stesso ho diverse fotocamere più piccole, delle fotocamere minori, magari delle point and shoot piuttosto che delle bridge, che scattano in 4 terzi. E attenzione, attenzione, i nostri smartphone spesso e volentieri scattano in 4 terzi. Per esempio io quando faccio delle fotografie con iPhone 15 Pro normalmente utilizzo il 4 terzi. Abbiamo poi, ovviamente, lo conoscerete tutti, il formato quadrato, quindi l'1x1, formato quadrato che è un 1024x1024 o 1080x1080, non mi ricordo più, il formato quadrato tipico di Instagram. E poi abbiamo il 4 quinti, che è il formato verticale di Instagram. Un formato che a me non piace per niente, secondo me hanno sbagliato a introdurlo proprio perché è un formato verticale che però non arriva né al 3 quarti né al 2 terzi. Quindi è un formato inventato da Instagram che oltretutto ci taglia fuori il sopra e il sotto quando poi vediamo le immagini nella gallery. Quindi secondo me è un formato che a me proprio non piace, però non è che non sia da usare. A me non piace, però è da usare in realtà perché ti avvantaggia sulla piattaforma. Passando al lato video abbiamo ovviamente il classico 16 noni, che è la televisione widescreen, i nostri televisori piatti che abbiamo in casa, probabilmente sono tutti 16 noni con qualche rara eccezione. È il formato diciamo classico per la televisione, una volta era il 4 terzi, adesso è diventato il 16 noni, è un formato abbastanza standard anche per il cinema, anche se nel cinema poi abbiamo delle variabili. Una di queste variabili è l'1.85a1, che è un formato che viene utilizzato prevalentemente per il cinema statunitense. E poi abbiamo il bellissimo 2.35a1, che è il formato CinemaScope, un formato molto widescreen che a me piace tantissimo perché invece di verticalizzare come gli smartphone immaginatevi se voi vedeste solamente questa porzione della scena sarebbe atroce. Invece widescreen vedete una porzione più ampia della scena. Con il CinemaScope è ancora più largo, quindi abbiamo più spazio ai lati, che francamente a me piace perché i miei occhi sono disposti in orizzontale, mi dà una visione che è più in linea con la mia biologia. Ovviamente visto che siamo in epoca di social non posso non citarvi il 9 sedicesimi, ovvero il formato full hd, però ribaltato, quindi messo in verticale, che è il formato principe dei social. È un formato che funziona su Instagram, funziona su TikTok, funziona su YouTube perché ci sono gli shorts. È un formato che ormai ha spopolato purtroppo, è un formato a mio parere bruttissimo, che funziona quasi esclusivamente per fare delle riprese di persone a figura intera. Infatti persone che ballano sono la cosa che si vede per la maggiore. È un formato che a me continua a non piacere, però dobbiamo adattarci a questo maledetto affare, quindi il formato da utilizzare per adattarsi allo smartphone è quello. Come potete vedere io non lo faccio, io registro in in sedicinoni classico e non mi sposto da lì. Una cosa molto interessante che vi segnalo per quanto riguarda YouTube nello specifico, ho sentito video di altri creator proprio in questi giorni che parlano di un nuovo formato che in realtà non è un formato introdotto dalla piattaforma, è un formato introdotto da alcuni creator, ovvero questi creator che cosa hanno pensato? Nel momento in cui noi andiamo a fruire un video su smartphone, se giriamo il nostro video e quindi carichiamo il nostro video in sedicinoni, abbiamo le bande nere sui lati probabilmente, perché lo schermo dello smartphone è più largo di così. E quindi che cosa hanno pensato questi creator? Hanno pensato bene di cambiare la razio, di modificare le dimensioni del video e quindi l'hanno modificato mettendo, lasciando il lato lungo a 3840 del 4K e andando a mettere però il lato corto a 1772 pixel. Pare che impostando questa razio il video vada a riempire per intero il monitor dello smartphone, ovviamente quando lo stiamo fruendo con lo smartphone in orizzontale in questo modo, quindi andrebbe a riempirlo per intero senza lasciare le bandine nere sui lati. Ora, è una cosa su cui potrei fare un esperimento, però in realtà a me non interessa così tanto, tanto io, anzi fatemelo sapere in un commento, io lo so che i miei video li guardate tutti così in verticale, quindi non ha senso che io vi schiacci ancora di più il fotogramma perché poi lo vedete ancora più piccolo, ma ditemi in un commento se invece potrebbe essere una cosa gradita. La nostra esplorazione dei formati però non può e non deve fermarsi qui, perché un conto sono i nostri dispositivi elettronici, ma poi noi abbiamo un'infinità di supporti su cui poter andare a stampare le nostre fotografie. Per cui abbiamo, per esempio, famosissimo il formato A, per cui abbiamo la 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, eccetera eccetera. Questo è un formato molto interessante e molto furbo perché sostanzialmente da un formato si va sempre a ricavarne due, quindi noi abbiamo la 4 che ha una certa misura, se noi lo tagliamo in due otteniamo due A5 e così via. Il formato della 4, il formato base, è un 210x297, quindi è un formato un po' più difficile da calcolare, non è come il 3A2 o il 4A3 che, insomma, sono facili da calcolare anche così a vista, questo è un po' più difficile da ricordare, però è un formato molto diffuso che vale la pena menzionare. Dopodiché abbiamo tutta una serie di formati stampabili proprio dedicati alle fotografie, quindi abbiamo per esempio l'immortale 10x15, il classico delle foto delle vacanze, ma abbiamo anche il 12x18, abbiamo il 13x19 e questi sono tutti i formati che fanno riferimento, se riesco a fare a mente le equivalenze, fanno tutti riferimento proprio al classico 3x2, perché è il formato più classico delle fotografie, quindi la maggior parte dei formati stampabili di fotografie fanno proprio riferimento al 3x2 o 2x3 se è in verticale, perché quella è la tipologia di formato che ci si trova più spesso a dover stampare, quindi gli stampatori si adeguano e hanno prevalentemente quel formato. Ora, come abbiamo potuto vedere, esistono tutti questi formati, quindi io posso nativamente catturare le immagini in un determinato formato sul mio apparecchio e poi però ho una destinazione e questa destinazione ha anch'essa un formato, quindi io devo capire qual è il formato sul mio apparecchio, sulla mia macchina che si avvicina il più possibile alla destinazione. È evidente che se sto girando un video per YouTube lo girerò in orizzontale, un video lungo, perché gli shorts invece in verticale, se sto girando un video lungo lo girerò in orizzontale, lo girerò in full HD, lo girerò in 4K magari come faccio io, però comunque in 16 noni. Quasi certamente in 16 noni, ci sono poi delle eccezioni, si può girare in CinemaScope, però secondo me non conviene, quindi tendenzialmente in 16 noni. Se invece sto girando un contenuto verticale per i social lo girerò in 9 sedicesimi, non ha senso fare il contrario, perché se io faccio il contrario poi devo, cioè da questo fotogramma dovrei ritagliare solo questa parte e immaginatevi il contrario sarebbe ancora più disastroso. Se io avessi solo questa parte e qui ci fosse il nero sarebbe irrimediabile ormai, perché dovrei o zoomare questo dettaglio per riempire tutto e sarebbe bruttissimo, oppure lasciare le bande nere che comunque fa schifo uguale. Quindi è importante decidere, sapere dapprima qual è la mia destinazione d'uso e girarlo già giusto. La stessa cosa ovviamente vale per le fotografie. Qui però vedete che abbiamo dei problemi, perché nel momento in cui io scatto in tre mezzi o due terzi quello che è, io non ce l'ho il formato giusto per i social magari, perché poi sui social io vado a pubblicare, mentre sulla stampa non ho problemi, perché la stampa, come detto, la stampa si è adeguata alla fotografia e secondo me era la cosa giusta da fare. Adesso invece è successo qualcos'altro. Adesso è la fotografia che deve adeguarsi ai supporti soprattutto digital. Per cui che cosa succede? Noi scattiamo con una razio che è quella della nostra macchina, quindi può essere tre mezzi o può essere quattro terzi, dipende dalla macchina. Poi però dobbiamo adeguarci a un uno per uno, un formato quadrato per Instagram per esempio, oppure dobbiamo adeguarci a un quattro quinti, quindi il formato verticale di Instagram. E qui ci vuole un po' di consapevolezza perché innanzitutto io devo sapere che se andrà su Instagram è meglio se scatto in verticale, purtroppo. E io non lo faccio, io scatto in orizzontale perché io mi rifiuto di adeguare una cosa che ho fatto io a una piattaforma. Per me non ha senso. Cambio piattaforma piuttosto. È un po' come se mi dicessero, guarda, tu hai fatto una bellissima torta, però noi qui vendiamo delle scatole quadrate, quindi adesso prendi la tua torta e la pigi dentro nella scatola quadrata finché non ci sta. Vado da un'altra parte ragazzi, non porto più lì la mia torta se me la rompono tutta per farla stare, la mia torta rotonda se me la fanno stare in un contenitore quadrato, quello non è il posto per me. E infatti come vedete io su Instagram non ci sto più. Infatti io ogni tanto continuo a ripetervelo, non scrivetemi su Instagram, scrivetemi qui in un commento perché sugli altri social io ho le chat aperte, però poi non leggo, non leggo niente, entro una volta ogni sei mesi su Instagram. Mi trovo 480 messaggi e mi dispiace per questo perché io vorrei rispondervi ma lì veramente non ce la faccio. Quindi scrivetemi qui che è meglio, qui rispondo anche più celermente. Tornando al nostro discorso, ovviamente ci vuole un po' di accortezza perché se stiamo lavorando per una piattaforma che vuole i contenuti verticali è meglio se li scattiamo già verticali. Così come se stiamo lavorando per un video orizzontale lo dobbiamo girare già in orizzontale. L'alternativa ovviamente è girarli entrambi e questa è una cosa che succede, si fa, io cerco di non farla perché io chiedo qual è la destinazione, poi dopo mi dicono sì sì tu fa l'orizzontale, poi arriviamo a casa e mi dicono ah ma si possono ricavare anche le storie da quello, ecco mi hanno fregato, quindi adesso dovrò fare il doppio del lavoro quando bastava fare due girati e avere i due girati separati ed era già tutto pronto. L'ideale è farli tutti e due, soprattutto se c'è un po' di incertezza, se non si capisce qual è la destinazione e badate bene, a volte sono i clienti stessi che non hanno la minima idea di cosa fare con il vostro materiale e lo scoprono solo dopo quando arriviamo a casa, quindi molte volte è meglio girare in entrambi i modi. Così abbiamo il girato fatto in entrambi ovviamente posto che si possa fare perché magari ci vogliono due camere uguali, quindi potrebbe essere imbarazzante da dover gestire questa cosa, poi comunque immaginatevi una ripresa come questa, io sto guardando lì, se ci fossero due camere dovrei guardare anche lì e sarebbe complicato avere la stessa cosa fatta due volte, bisognerebbe o rigirare due volte il video o comunque fare un multicamera con un errore di parallasse perché a quel punto sarebbero effettivamente due camere diverse, insomma è un problema complicato. Diciamo che la migliore approssimazione che possiamo fare è cercare di sapere in anticipo, basta chiederlo dove va sto video, va su YouTube o va su TikTok perché è tutto lì alla fine, sapendo questa differenza oppure dove va questa fotografia, la stampi e vuoi una stampa a muro, è un 70 per 50 che va su una stampa a muro oppure va su nelle storie di Instagram, basta sapere questa cosa per decidere che formato utilizzare. Attenzione ovviamente se io la scatto in verticale non è che va già bene per Instagram, se io la scatto in verticale sarà due terzi e una fotografia due terzi è più larga di una storia, quindi vuol dire che la storia rifilerà la parte centrale, perderemo qualcosa sui bordi, con questa consapevolezza io devo già scattare stando un po' più indietro in maniera tale che ci sia un pochettino di spazio intorno perché io devo sapere che lo spazio intorno verrà tagliato e quindi io finirò più vicino nella mia ripresa, quando vado a ritagliare le foto per metterle sui social soprattutto, quindi con questa consapevolezza io devo cercare di avvicinarmi sempre il più possibile al formato di destinazione. Ora detto questo, questo è diciamo il metodo di lavoro, adesso passiamo alle considerazioni personali. Personalmente a me piace moltissimo il formato originale, a me piace il 3 mezzi, a me piace il 16 noni perché quelli sono formati che hanno una storia, sono formati che sono nati così per dei motivi e c'erano degli studi dietro e sono stati fatti così per una consapevolezza e per dei limiti tecnici anche, certo non lo nego, però sono stati fatti in quel modo perché c'erano degli studi dietro. Dietro allo smartphone non ci sono degli studi per migliorare la tua fruizione, anche perché se ci fossero ti metterebbero un'impugnatura qui e te lo farebbero tenere in orizzontale perché i nostri occhi sono in orizzontale, quindi lo vedete anche voi che la naturale fruizione è questa. La naturale fruizione non è questa che non vedi niente, ma è in orizzontale. Quindi io personalmente prediligo i formati orizzontali, ma al di là dell'orizzontale o verticale, io prediligo i formati fotografici e videografici originali, quindi con i rapporti corretti. Quindi il 3 a 2, quindi il 16 a 9, quei formati a me piacciono molto di più dei formati digital. I formati digital sono stati adattati a questa trappola infernale con l'unico obiettivo di farci comprare delle cose, quindi è solo una commercialata che abbiano creato questi formati nuovi. Sono pensati per essere incasellati dentro in delle app che sono sostanzialmente degli e-commerce dove noi dobbiamo solo cliccare e comprare, cliccare e comprare. Io rimango ancorato alla tradizione di pellicola e film dove c'era un pensiero, un ragionamento e dell'arte dietro, mentre oggi non le vedo più. Quindi queste ovviamente sono considerazioni personali. Lo so benissimo che l'arte c'è ancora. Diciamo che per come l'arte viene sempre infarcita di commercialate riesco a percepirla un po' di meno e quindi questo mi infastidisce e mi infastidisce che mi abbiano tolto i formati originari che a me piacevano più di questi. Per cui tutto questo per dirvi cosa? È giusto che noi ci confrontiamo con la destinazione finale ed è giusto che noi adattiamo il nostro lavoro alla destinazione finale anche perché non abbiamo scelta. Cioè o pubblichiamo le cose con le bande nere e le bande bianche sui lati ma finisce che è bruttino oppure ci dobbiamo per forza adeguare ai formati su cui andiamo a lavorare. Ovviamente può succedere anche il contrario. Io magari sto scattando con una fotocamera che stampa dei 10x10 quindi stampa un formato quadrato e lo vado a stampare su un 50x70 mi rimane un'area bianca non stampata. Cioè può succedere anche il contrario. Dobbiamo sempre avere noi l'accortezza di capire come stiamo lavorando e soprattutto cosa vogliamo ottenere. Quindi è lì il discorso. Diciamo che in ambito prettamente fotografico e di portfolio il consiglio che vi do io è di mantenere la razza originale. Perché? Per due motivi. Il primo è che con i rapporti originali quindi 4 terzi, 16 noni, 3 mezzi, con quei rapporti lì noi abbiamo dei formati fotografici. Quindi non abbiamo delle foto ridimensionate a casaccio. E quindi quello che succede è che se abbiamo dei visitatori, se sono dei fotografi appassionati, videomaker, vedono che abbiamo usato i formati originali e quei formati hanno una storia. A differenza dello smartphone, infatti vedete che lo smartphone ogni mese buttano fuori un formato nuovo perché non ha una storia questa roba qui. È solo una cosa che si adatta ai trend per far vendere di più le aziende. Quindi non ha una storia, non ha arte né parte. Mentre i formati originali ce l'hanno e come. Per cui il mio consiglio è se state utilizzando le foto per il vostro portfolio o per un progetto fotografico o per un libro fotografico, cercate per quanto possibile di mantenere il formato fotografico originale. Perché comunque secondo me da quel qualcosina in più fa vedere che c'è dietro un'attenzione anche alle origini di quello che stiamo facendo. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che se voi usate le proporzioni originali sono quelle e non si scappa. Se invece non le usate, guardate io ho avuto anche dei docenti che facevano questa cosa e che a me non piace per niente. Docenti che dicevano ok questa foto ha questi ingombri e allora io la rifilo un pochino così a caso in modo da togliere eventuali elementi di disturbo. Ok hai tolto un elemento di disturbo da una parte però questa foto ha una razza a caso. Quell'altra foto pure l'hai ridotta un pochino di qui ma ha una razza completamente a caso, completamente arbitraria e quindi poi ti ritrovi con le foto tutte con le proporzioni diverse ed è un accrocchio orrendo da vedere se le metti insieme quantomeno. Cioè se le usi singolarmente, la singola foto va bene, però se cominci ad accostare una foto, già una foto in quattro terzi e una foto in tre mezzi a me danno un fastidio incredibile. Però se mi cominci ad accostare una quattro terzi, una uno per uno, una tre mezzi e poi mi metti dentro delle proporzioni a caso, quindi una 7,2 per quattro, cioè robe a caso messe dentro così, lì veramente magari ci hai pure pensato e ci hai pure preso delle misure, però lì fai proprio vedere che sei disordinato, sei confusionario ed è assolutamente da evitare secondo me. L'ultima cosa che vi segnalo, che in realtà ha poco a che fare perché si usa in fotografia ma per altre cose, è il rettangolo aureo che nasce dalla sequenza di Fibonacci in cui non mi addentro perché io non sono un matematico e anzi in matematica io faccio schifo, non ci capisco niente, però è stato calcolato che questo rettangolo i cui rapporti sono 1,618 e poi continua, è una sequenza di numeri impossibile, 1,618 circa è un rapporto che ci consente di avere quasi la la perfezione stilistica per quanto riguarda i rapporti tra i due lati, è un formato che in fotografia francamente non so neanche se esiste, non viene usato, viene usata la sezione aurea per fare la composizione, però poi come razio non mi risulta che venga usata, però è da pensarci perché comunque noi potremmo adottare la razio del rettangolo aureo come nostra cifra stilistica dei nostri lavori, quindi l'importante secondo me è decidere, dobbiamo decidere, attenzione varia anche in base ai lavori ovviamente, non è che bisogna usare sempre la stessa cosa, io uso il tre mezzi sempre, però se il mio cliente mi dice io vado solo su Instagram col formato quadrato, metto il soggetto sempre al centro, io scatto sì in tre mezzi, però poi verrà rifilata sempre quadrata e per quel cliente lì le foto saranno tutte quadrate, non è che io lavoro in maniera unidirezionale, faccio sempre la stessa cosa, mi adatto di volta in volta soprattutto alla destinazione finale e solo per ultimo metto il mio gusto personale, purtroppo, quindi quando io devo fare un lavoro so che la destinazione finale è quella e così verrà scattato il lavoro, poi il mio gusto personale mi dice di comporre in un certo modo, magari di usare la regola dei terzi anche all'interno del quadrato, benissimo, ma questo viene dopo, perché prima io devo pensare alla consegna di un file che sia corretto per la destinazione che mi è stata richiesta. Molto bene amici, a questo punto direi interrompiamo qui questo video che è venuto ben più lungo di quello che avevo in mente, io vi chiedo come al solito se avete domande ulteriori, fatemi sapere se questo argomento vi interessa, se volete ulteriori sviluppi, aggiornamenti, fatemi sapere tutto quanto in un commento, vi ricordo di iscrivervi perché se vi interessa qualcosa e non vi iscrivete poi ve lo perdete, poi date la colpa a me, invece se vi iscrivete subito questo non succederà e noi non vogliamo che succeda. Come sempre io vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!